Benvenuti su questo tutorial di utilizzo dei documenti condivisi del movimento ZEITCAST io sono Federico Pistono, coordinatore nazionale andiamo a vedere nella pagina di attivismo, se cliccate qui si apre questa bella pagina che abbiamo preparato dove spiega quali sono i gruppi di lavoro con i vari contatti, chi sono i coordinatori, come si può partecipare, qual è il gruppo sul sito, la mailing list e se c'è anche il gruppo facebook quindi se per esempio volete dire ok io posso aiutare con le traduzioni oppure con la correzione delle traduzioni che sono state fatte basta contattare il coordinatore o coordinatrice di quel gruppo iscrivervi alla mailing list o quello che preferite e rimanere in contatto con quello per quanto riguarda i gruppi di lavoro la cosa che vorrei mettere alla vostra attenzione, visto però importantissima l'archivio dei documenti pubblici del movimento ZEITCAST abbiamo una struttura centralizzata che ci permette di condividere in tempo reale tutti quanti i documenti che servono per gli attivisti del movimento se voi cliccate qua vi apre questa bella pagina dove ci sono queste cartelle su google docs chiamate documenti nazionali, gruppi cittadini, gruppi di lavoro dentro questi ci sono tutta una serie di documenti che possono servire per fare un tot di cose per esempio qui nel GDL programmazione ci sono staff, progetti, elenco attività e un sacco di altre cose se voi volete modificare questi documenti o creare di nuovo documenti dovete avere un account google e potete crearne uno o creandolo ex novo oppure se non avete ancora un google account, cioè se avete un google account semplicemente fate login se non avete un google account potete crearne uno e per creare uno potete o iniziare un nuovo indirizzo email con gmail oppure potete utilizzare un'altra mail, per esempio se ce l'avete su hotmail oppure su interfree o libero o qualcos'altro basta dire ok io utilizzo un'altra mail, scrivete la vostra mail e dopodiché riempite i campi a quel punto quando cliccate dentro questo link qua che si trova dentro la pagina di attivismo vi comparirà una cosa così, ci sarà questa visualizzazione qui di google docs dove ci sono documenti nazionali, gruppi cittadini, gruppi di lavoro se siete all'interno di un gruppo, che sia un gruppo di lavoro o un gruppo cittadino è importantissimo che utilizzate questa struttura di cartelle condivise di file per scambiarvi le informazioni con gli altri attivisti così che tutti quanti sanno quello che sta succedendo e qual è lo stato di avanzamento dei lavori per esempio qui nella cartella gruppi cittadini se vado dentro Milano vedo che hanno progetti, template, organizzazione per esempio dico chissà che progetti stanno facendo festival dell'informazione indipendente quindi vado qui e trovo il documento e posso andare a controllarmelo e fare tutte le mie belle operazioni allora questa struttura qua permette a tutti quanti gli attivisti e curiosi e insomma tutte le persone che vogliono partecipare di essere sempre aggiornati e aggiornate su quello che sta succedendo a livello nazionale nel movimento Zeitgeist come vedete dalla struttura questo fa parte di una struttura ancora più grossa che è quella mondiale perché tutto quanto il mondo da pochissimo tempo adesso abbiamo lanciato questa iniziativa la stiamo spargendo per tutti gli altri continenti e gli altri paesi tutto il mondo utilizzerà questa struttura di Google Docs per la gestione dei documenti quindi se avete il vostro gruppo cittadino io qua vorrei vedere tutta la lista dei nostri gruppi per esempio i nostri gruppi ufficiali ci sono tantissime città come vedete alcuni hanno pochi partecipanti altri invece ne hanno tanti però Terni, Atella, Verbagna, Firenze, Milano, Toscana, Varese e via dicendo Cuneo ecco tutte queste qua Bari ce ne sono 128 a Bari ecco queste città qui dovrebbero tutte quante avere una loro cartellina qui e dentro la cartellina avere i loro documenti condivisi per creare una nuova cartella una nuova collezione fate crea nuovo collezione e vi creerà una nuova cartella quando siete dentro a quella cartella lì o quella collezione lì basta fare crea nuovo documento e qui potete creare un documento come se fosse un documento Word un documento spreadsheet un foglio di calcolo una form e via dicendo potete fare un tot di cose ecco quindi questa è una piccola introduzione alla struttura poi una volta che avete creato un file potete scegliere il livello di visualizzazione e di condivisione con i vostri membri per esempio potete decidere che questo file è pubblico e che tutti quanti possono accedervi oppure potete decidere che questo file qui solamente alcune persone lo possono vedere oppure che vedete se dite che è pubblico tutti possono vederlo se cliccate anche questo allora tutti possono vederlo e modificarlo se mettete privato invece dite solamente alcune persone che io scelgo a mano possono modificare questo documento o visualizzarlo quindi a seconda delle impostazioni di priorità scusate di visibilità che mettete potete decidere che alcuni documenti sono visibili da alcune persone e altri da altre persone per esempio nella sezione documenti nazionali ci sono alcuni documenti di una certa importanza che potete andare a vedere a controllare e che possono servire per l'attivismo in Italia ecco qui vedete per esempio ci sono gli argomenti del podcast del movimento Zeitcast qui quando volete prenotarvi per un argomento da discutere nel prossimo podcast basta cliccate qua e aggiungete i vostri dettagli i report cittadini sono molto importanti se avete una città e volete dare una piccola reportistica sul vostro stato avanzamento e quello che avete fatto questo è il file poi c'è la guida l'utilizzo TeamSpeak come si utilizza il sito di Zeitcast Italia incontri nazionali i link per lo scaricamento con i vari mirror nel caso ci sia qualche link che non funziona il bilancio del movimento linee guida per le interviste e qui ci saranno tanti altri documenti che aggiungeremo col tempo questo qui di report cittadini vedete ci sono alcune città che hanno aggiunto i loro dettagli per ognuna di queste città aggiungono diciamo una reportistica degli incontri che hanno fatto e un piccolo riassunto di quello che è successo per esempio qua Milano riassunto la data numero di partecipanti che argomenti hanno trattato chi è che ha coordinato l'incontro e via dicendo ecco qui come vedete ci sono un po' di città e chiunque sia insomma chiunque voi siate potete andare a controllare cosa sta facendo tutte quante le città ecco questo è un po' la struttura dei documenti vi ricordo di nuovo si trova andando nella sezione attivismo quando andate nella sezione attivismo cliccate qua e vi aprirà questa bella struttura dei documenti dove c'è tutto quello che noi abbiamo in condivisione ed è tutto trasparente e aperto al pubblico vi invito a utilizzare questo strumento e buon lavoro a tutti quanti grazie a tutti